Decisamente positivo il pari conquistato a Brescia dalla Virtus nel debutto di campionato. Due volte in svantaggio, la squadra di Baroni non si è persa d'animo, ha rimontato col piglio di una grande, mostrando coraggio, proprio come chiedeva il mister, che oggi alla ripresa ha analizzato la trasferta in casa delle rondinelle. Abbiamo la consapevolezza di aver fatto bene e quindi adesso c'è da lavorare subito ancora più convinti di prima, ancora più determinati di prima. I rammari così, è chiaro che andando a vedere anche nei numeri la partita, nella match analisi, ho visto che abbiamo avuto nove occasioni noi contro le quattro di loro, abbiamo avuto per gran parte supremazia territoriale, qualche angolo in più di loro, insomma nei numeri ci poteva stare un colpaccio. È chiaro che per quello che si era visto in campo per le occasioni sicuramente, però queste sono le partite che, come ho detto prima, se ti gira male puoi anche perdere, la cosa invece che rimane importante è la prestazione, è una prestazione che poi è nata anche da uno svantaggio, subito così in maniera un po' superficiale, nei primi quattro minuti, quindi questo rafforza ancora di più la convinzione di avere un gruppo consapevole. Io, lo sapete, avevo chiesto alla squadra coraggio, convinzione, rispetto, ma sapendo di andare a giocarci quello che noi sappiamo fare e che dovremmo fare tutte le gare. Quindi questo è stato fatto, è già un buon passo.